Musica Benvenuti cari amici di MobileOS.it Quest'oggi parliamo di Zopo ZP530 Un prodotto interessante perché presenta un display da 5 pollici HD 2,5D Quindi un vetro leggermente curvo per favorire la visualizzazione del display E un prodotto che vediamo cosa comprende in confezione Innanzitutto queste due cover, una cover davvero folkloristica Un'altra un po' più classica sul bianco Poi vediamo un po' cosa è compreso È compreso una quick guide, quindi una guida rapida del prodotto Alcune informazioni sulla sicurezza Poi andando ancora a vedere sotto abbiamo Cavo USB, micro USB Poi bilanciere, anzi scusatemi Cuffie auricolari con tastino di risposta E possiamo vedere che le cuffie hanno anche Le caccio un po' direi abbastanza classiche Come form factor E poi il caricatore Il caricatore di Zopo Eccolo qua, possiamo vedere che l'uscita è pari a 1A Bene Andiamo a parlare allora del prodotto Dicevo, lo schermo ve l'ho già detto 5 pollici HD Processore quad core di Minitech L'MTK6732 da 1GB di RAM E scusami, da 1,5GHz di velocità di clock 64bit con 1GB di RAM 8GB di memoria interna Espandibili tramite i microSD E abbiamo una fotocamera poi posteriore Qui da 5 megapixel L'anteriore con flash LED invece E da 8 megapixel E qui sotto abbiamo poi lo stemma zuopo E lo speaker Ancora Peso di 169 grammi 145 mm di lunghezza 72,2 di larghezza E uno spessore di 8,8 mm Android Kit Kat All'interno per far muovere il dispositivo Connettività, Wi-Fi, 3G, 4G Dual SIM Micro SIM più normale Poi lo vedremo Bluetooth e GPS Sopra abbiamo microfono e jack da 3,5 A destra il bilanciere del volume Sotto abbiamo alto microfono Ingresso per il cavo micro USB E in capo per andare a estrarre la cover posteriore E a sinistra il tasto di accensione e spegnimento Bene, togliamo la cover allora E sotto possiamo vedere la batteria Da 2100 mAh Removibile E la SIM Le SIM che vi dicevo E la micro SD Le SIM sono entrambe micro probabilmente È sbagliata la scheda tecnica che ci sarà fornita Dovrebbero essere entrambe micro Comunque sono più chiaro sicuramente in recensione Il telefono mi è appena arrivato Datemi qualche tempo per provarlo Micro SD invece per quanto riguarda l'espansione Bene, direi quindi che è tutto per questo unboxing Qualche giorno di tempo per provarlo Per metterlo, per testarlo a fondo E poi daremo una recensione finale Dello Zoopo Therapy 530 Ciao Ciao